State ascoltando SPS Italian State ascoltando Slow Italian Fast Learning Per trovare il testo a fronte italiano-inglese visitate www.sbs.com.au barra Slow Italian Slow Italian Fast Learning Avendo ostentato il branco di canguri nella residenza del governatore a diplomatici europei in visita è il lato meno fotogenico di questa industria multimilionaria che alcuni a Bruxelles hanno sotto gli occhi Anja Hasekamp è la presidente dell'Intergruppo del Parlamento Europeo per il benessere degli animali Alcuni membri dell'Intergruppo per il benessere degli animali stanno minacciando di bloccare un accordo di libero commercio con l'Australia atteso da lungo tempo When you realize that the kangaroo hunting is a really cruel industry with a lot of animal welfare issues the hunting takes place in the night far away from scrutiny or enforcement and it is difficult to kill instantly these animals while they are running and when it's dark and there's also the problem of the joeys that are abandoned and left in the field or killed it's such a cruel industry and I think Europe should ban the import of kangaroo products L'Unione Europea è il più grande mercato di esportazione del settore con un valore di 50 milioni di dollari di carne, pelli e cuoio destinati al mercato unico ogni anno I diplomatici australiani si stanno muovendo per alleviare le preoccupazioni sulla sostenibilità e l'igiene Joanna Granger fa parte della rappresentanza diplomatica dell'Australia all'Unione Europea La senatrice del partito nazionale Bridget McKenzie promuove con passione il settore Il nuovo commissario europeo per il commercio Valdis Dombrovskis sta affrontando crescenti pressioni per imporre standard di benessere e sostenibilità più rigidi negli accordi di libero commercio compreso quello con l'Australia Le esportazioni agricole sono particolarmente delicate Nonostante mantengano un avanzo commerciale alcune delle nazioni dell'Unione Europea temono che una concorrenza maggiore potrebbe danneggiare i loro mercati interni come spiega Ania Hasekamp Dopo nove cicli di negoziati i funzionari australiani restano ottimisti per un accordo che si possa concludere alla fine del prossimo anno Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scaricchiate i vostri podcast Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti